Ken cioppo, Ken cioppo, Ken cioppo Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione Ken lo vuoi salutare? Allò! Si, Ken ha salutato bene Ragazzi, facciamo questo video per spiegarvi un attimo come mai non ci sono stati molti video Uppati sul nostro canale in questo periodo Mentre Ken si guarda intorno Si, no, stiamo guardando lo sfondo Vabbè, lascia stare Ken Si Insomma, ragazzi, come mai così pochi video? Per un semplicissimo motivo stiamo lavorando ad un eventone Si Una roba grossa Che sta per svolgersi all'interno della nostra provincia E è una roba veramente grande Nei giorni 30, 31, 1 e 2 Quindi fine maggio, inizio giugno Dal nome questo grande evento? Carrara Show Quindi non show nel senso show, grande show Anche perché da Massesi potrebbe sembrare campanilismo No, 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 no Si dice Il Carrara Show Che si svolge presso il Carrara Fiere Nelle giornate del 30, 31, 1 e 2 giugno E quindi sabato, domenica, lunedì e martedì Perché poi martedì e festa Quindi si svolta anche il ponte Si svolta il ponte Sono 4 giorni, 4 giorni intensissimi di fumetto, gioco E tutto quello che è collaterale al fumetto e al gioco Ricordiamo, no gioco d'azzardo Ok, poi ci saranno all'interno dell'evento un sacco di conferenze Inerenti al problema della zardopatia Che non è la lunedopatia Poi ne parleranno degli esperti Che non siamo noi Come si conta? Perché giustamente ne hanno parlato tantissimo Perché è un problema non da poco da sottolineare sempre Tagliamo Cosa si fanno Ken e Chappo al Carrara Show? Che domande! Che domande! Che domande! Tanto per cominciare le zorbol Tanto per cominciare avremo il nostro spazzetto Dove faremo provare le zorbol Ci avete visto in giro un po' per qualche fiera Nella nostra zona Abbiamo le zorbol Quindi se le volete provare Ci troverete tra l'altro Dovemo essere nel padiglione Proprio dedicato agli youtubers Dove sono anche poi diciamo tutti i vari gamers Avremo il nostro spazio Lo spazio è abbastanza grande Dove sarà possibile appunto provare le zorbol Rotolatevi Non ci caceranno di non andare contro le varie Gli altri stand, ok? Al di là di questo Un'altra cosa veramente una figata Si C'è il Tenetevi forte Un titolo ragazzo allucinante Il Ken e Chappo Youtuber Show Non abbiamo ancora capito come Alla fine è nato Perché ognuno ha aggiunto un pezzo Giusto così Bene così È diventato il Ken e Chappo Youtuber Show Che ovviamente non sarà soltanto di Ken e Chappo Noi facciamo un po' una sorta di Maurizio Costanzo Della situazione In realtà Sarai te Maurizio Costanzo Non ho capito Ma per dire No aspetta buono Maurizio Costanzo è un signor presentatore Insomma Si Chapeau Maurizio Costanzo Si si Ma non è tanto questo il punto Il punto è che non ci saremo solo noi Ok? Ma ci saranno anche dei grandissimi ospiti Grandi ospiti tutti i youtubers Che ci parleranno un po' del mondo di Youtube E ci parleranno dei loro canali nello specifico Un ampio spettro di ospiti Prego Ken Noi vogliamo Le parti difficili mi fa fare a me Allora gli ospiti saranno 5 Saranno tutti Di diverse Tratteranno diverse tematiche Proprio come di fatto rispecchiano I rispettivi canali Quindi Il talk show sarà interessante anche per questo Perché comunque Passeremo Dall'astronomia La fisica Quindi tutto ciò che Che ne Con fa Si dice con fa Vabbè vai avanti Si dice Ai viaggi Diciamo ai vlog In senso più ampio I nostri ospiti saranno Rullo di canguri no? Rullo di canguri Allora ci sarà Daniele Andreani Olè Li voglio dire te o li gotti io? Vai dite Li faccio voler Poi Link for Universe Olè Poi ci sarà ODS Che ora si chiamano Online Dubbing Squad Dovei averlo detto giusto Sì deve essere quello Olè Tutti magari sapranno Com'è Poi ci sarà Maccialatte Che è anche qua Della nostra zona Poi ci saranno I fantastici Alcedo Anche loro vicini Alla nostra Olè Olè Dai si fa un po' così Tanto per par condicio Ciao Mi vedete se non erro 4 Chi manca? No Gli hai tutti Gli hai tutti Gli hai tutti 5 no? Mi pare di sì Scusa eh Ripetiamo Andreani Maccialatte Alcedo Link for Universe E ora doppiamo Gli hai tutti Ma io lo sapevo Volevo essere ciappo da te Gli hai tutti Quindi ragazzi Abbiamo questa rosa Di ospitoni E ovviamente Potrete anche interagire Con loro Se avete qualche domanda Inerente Che ne so Al doppiaggio Qualche domanda Inerente Al giapponese Qualche domanda Inerente Agli alcedo Perché gli alcedo Che cosa vogliono Vogliono parlare Avete una quinta di seno Passate dagli alcedo Insomma Poveri alcedo Li stiamo distruggendo Poi tra l'altro Ovviamente sarà Uno show Imperdibile Condotto poi Da due youtubers D'eccellenza Come noi Quindi Sta buono Che ci flamma Lo tempo zero Quindi sicuramente Ci divertiremo Staremo insieme Un'ora e mezzo Lo show Diciamo si terrà Dalle ore 15 Alle ore 16 E 30 Circa Nel padiglione Sempre sul palco centrale Del padiglione Delle youtubers Quindi poi avete modo Di visionare Insomma le pentine Quello che sarà in fiera Tanto la fiera è enorme Però voglio dire I palchi si vedono bene Noi siamo sul palco Non potete sbagliarvi Dunque ragazzi Tenendo conto che Questo promo È stato lunghissimo E avete chiuso Dopo i primi 30 secondi Quindi nessuno di voi Ha recepito le informazioni Che vediamo da Davvero Sei troppo Sei troppo sfiduciato Noi vi aspettiamo Al Carrara show 30 31 1 E 2 Giugno Ragazzi Ovviamente Maggio e giugno Non che facciamo Inizio giugno E fine giugno Ok Mi sembra ovvio Ragazzi Vi aspettiamo Vi aspettiamo Ciao ragazzi Questo è ciò che Vi aspetta Quindi ci vediamo